La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo. Un caro saluto agli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo. I paesi sudamericani sono da sempre vittime delle politiche imperialiste nordamericane che hanno imposto il neoliberismo a suon di colpi di Stato, di embarghi, di dittature. Bene, questi paesi crearono in passato l'ALBA, acronimo di Alleanza Bolivariana per le Americhe, in onore del rivoluzionario Simon Bolivar che sognava la patria grande del Sud America in funzione antistatunitense. Un'alleanza appunto tra i vari paesi che avevano un nemico comune. Ovviamente stiamo parlando di paesi che avevano una dipendenza diretta dagli Stati Uniti ed economie troppo dipendenti dal prezzo delle materie prime. Quindi il fatto di essersi schierati apertamente contro gli apparati statunitensi li ha costretti a derive autoritarie e a far subire ai propri popoli, sulla propria pelle, le conseguenze di una lotta contro gli imperialisti. Noi nel Sud Europa invece abbiamo economie diversificate, una potenza economica diversa. Quindi di quelle esperienze latinoamericane potremmo prendere soltanto il meglio, ma è quello il modello da imitare da un punto di vista concettuale, quindi al netto delle derive autoritarie che vanno sempre condannate, anche quando sono una naturale difesa agli attacchi subiti. La mia proposta quindi è quella di lavorare insieme per creare un'alba euro-mediterranea che porti al distacco dalla gabbia dell'Unione Europea, che porti i paesi del Sud Europa ad affrancarsi dal dominio europeo e dal dominio non tanto statunitense, ma dagli apparati deviati statunitensi che hanno sempre avuto una influenza su tutti gli eventi che hanno destabilizzato in passato, in particolare il nostro paese. Potremmo in questo modo liberarci insieme dai meccanismi soffocanti dell'euro, dal piano oligarchico del cartello finanziario internazionale, dalle speculazioni, al fine di creare un'area dei popoli del Mediterraneo che guardi all'alba latino-americana sia in termini di modello ma anche dal punto di vista di alleanza da seguire, quindi dei possibili partner dell'alba euro-mediterranea. In questo modo si potrebbe lavorare alla formazione di una propria banca centrale con una propria moneta, con una collaborazione solidare e di cooperazione incentrata sui vantaggi complementari fra i vari paesi come hanno provato a fare in Sud America. Questa idea deve essere la linfa per il rilancio del riscatto dei popoli del Sud Europa e non solo. L'alba dunque per una futura umanità che non deve essere più sottoposta alle barbarie e alle angherie dell'imperialismo e del neoliberismo. Approfondimenti sul sito francescomodeo.it Un caro saluto agli amici di Radio Radio. La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo.